50 visioni comuni, neopopolamento dell'Italia tra tentativi e buone pratiche, un volume che si inserisce nelle attività di Officina Italia, progetto di Carza Simbole e Abruzzo, che costituiscono l'Osservatorio Nazionale di Officina Italia. Si tratta di una ricerca che prende in esame progetti di sviluppo locali già in atto e nuove idee di neopopolamento, rigenerazione, riuso e riattivazione, argomenti trattati nell'incontro ospitato nel Gran Sasso Science Institute, correlatori di prim'ordine, 50 buone pratiche in sostanza che potranno anche ispirare i sindaci italiani impegnati nella ricostruzione e coloro che lottano contro la desertificazione dei territori, con uno sguardo attento al PNRR, che può essere valido strumento con le proprie risorse in questo senso. I relatori sono stati Sergio Galbiati, presidente Abruzzo, il direttore ricerche Abruzzo, Simone D'Alessandro, Oscar Buonamano, direttore editoriale di Carza, Luca Santilli, sindaco di Gaiana Terno, Alessandro Crociata, direttore dell'Osservatorio Culturale Urbano e professore associato Gran Sasso Science Institute, Lelio Iapagli, prorettore dell'Università, Alessandra Faggian, prorettore del Gran Sasso Science Institute e Giovanni Legnini, commissario Sisma 2016. Siamo partiti da un monitoraggio di circa 200 comuni in Italia, da nord al centro al sud, passando anche per le isole, cercando di capire quali fossero le buone pratiche capaci di rigenerare i comuni ma soprattutto di ricostruire un processo di neopopolamento. Abbiamo selezionato 50 buone pratiche che potrebbero anche ispirare tanti altri sindaci a fare altrettanto. nella consapevolezza che bisogna cambiare paradigma, dobbiamo costruire uno sviluppo locale relazionale anche sulla base di nuove parole chiave, i flussi, le connessioni, il senso del limite ma soprattutto sviluppare una costruzione progettuale di comunità. La cosa veramente fondamentale è che il 50% di giovani fra i 18 e i 40 anni, insomma perché a 40 anni si è ancora giovani, vogliono rimanere in realtà in questi territori e stanno pianificando di rimanere in questi territori e un altro 15% vorrebbe rimanere e se ne deve andare per questioni di forza maggiore. Quindi se noi dessimo delle opportunità a questo 15% noi avremmo il 65% di giovani che rimangono in queste periferie. Troppo spesso c'è una retorica che vede i territori in competizione l'uno contro l'altro per attrarre risorse oppure per avere successo sui mercati interni e internazionali. Dietro c'è un'idea malsana e pericolosa ma anche analiticamente sbagliata secondo la quale il benessere economico di una comunità deve essere ottenuto a spese di quello delle altre perché questa è la competitività dei sistemi. Ha chiuso l'incontro il commissario straordinario Sisma 2016 Giovanni Legnini, per lui in prima linea anche nel PNRR. Dopo i terremoti e la pandemia per i territori dell'Appennino centrale si aprono nuove sfide e opportunità. Ci sarà un patrimonio di dizio più sicuro e sarà possibile realizzare la transizione ecologica e digitale. La fase che si sta attraversando insomma per lui è cruciale. Grazie a tutti.